Siccome mi sei detto che io voglio la tradizione della sinistra, in questo momento, secondo me, il principale leader della sinistra è il Papa. Cioè, la personalità che esprime, naturalmente con la forza che gli deriva dalla sua funzione, diciamo, nel modo più significativo, diciamo, questa critica della società attuale, dei suoi meccanismi di esclusione, è il Papa. Grazie.